Io avevo l'apertura il 20 di maggio, il 20 di maggio avevo l'apertura, ieri è successo questo, la mattina sto chiamando il Vigi del Poco e fino adesso loro dice che abbiamo già altri vent'anni non possiamo venire, ma ogni cosa che qua c'è elettrica le cose che la danni perché un'efficina che è un po' pericolosa e dopo abbiamo messo queste, abbiamo preso questa pompa da solo e stiamo facendo la cosa da solo, non arriva nessuno, speriamo che vieni un po' tardi perché tardi è un po' peggio ancora dopo le 4.